E' per questo che ho deciso, d'accordo con gli altri componenti del Governo, di adottare misure ancora più forti, ancora più stringenti, per riuscire a contenere il più possibile l'avanzata del coronavirus e tutelare così la salute di tutti i cittadini, che vorrei ricordare è il nostro obiettivo primario, pur contemperando, cercando di contemperare fin quanto possibile anche altri interessi che meritano di essere tutelati. Ma se la salute dei cittadini, la salute pubblica è un bene che è messo a repentaglio, noi siamo costretti a scegliere e imporre dei sacrifici per quanto riguarda gli altri interessi, pur meritevoli di tutela. E' per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione io resto a casa. Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola, ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti, a meno che non siano motivati da tre specifiche circostanze, comprovate ragioni di lavoro, da casi di necessità o anche per motivi di salute. Aggiungiamo in questo provvedimento anche un divieto degli assembramenti all'aperto in locali aperti al pubblico. Abbiamo e comprendiamo la voglia di socialità anche dei giovani. Abbiamo visto tutti episodi, fotografie anche dove la movida c'è molto divertimento, si consumano anche delle bevande al di fuori dei locali e dei bar. Non ci possiamo permettere più queste occasioni di aggregazioni che diventano occasioni di contagio. Credetemi, non è facile. Sono pienamente consapevole della responsabilità e anche della gravità nell'adottare queste misure per tutta la penisola, ma sono costretto a intervenire in modo ancora più deciso per proteggere tutti noi e soprattutto le persone più fragili e più vulnerabili.